Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi su una cascata di ghiaccio in Valdimello. Un alpinista di cui al momento non si conoscono le generalità ha perso la vita mentre affrontava la salita di Burian, una cascata di ghiaccio in località Pioda a circa 1800 metri di quota. Ad allertare i soccorsi dopo l'incidente è stato il compagno di Cordata dopo aver raggiunto una località più a valle dove è presente la copertura del segnale telefonico. Poco dopo le 13 è stato allertato il soccorso alpino della stazione di Val Masino che si è messo a disposizione dell'elisoccorso decollato da Caiolo. Raggiungere la località in cui si è verificato l'incidente impone infatti alcune ore di cammino e l'urgenza di intervenire per il recupero dell'alpinista ha imposto il trasferimento dei soccorritori in elicottero. La salma dell'uomo è stata recuperata nel pomeriggio.